E' in navigazione diretta verso Piombino, la Golar Tundra, la nave rigassificatrice che sarà posizionata per tre anni all'interno del porto della città dell'Acciaio. L'imbarcazione è partita da Singapore il 21 febbraio scorso, dopo alcuni test di routine attesa in Toscana all'incirca metà marzo. Prima del suo arrivo, mercoledì prossimo, è fissata al TAR l'udienza di discussione nel merito del ricorso presentato dal Comune, che fa seguito al no alla richiesta di sospensiva da parte dei giudici amministrativi lo scorso 22 dicembre. Poco più tardi, il 24 marzo, invece scadranno i 100 giorni di proroga concessi a Snam per indicare il luogo offshore fuori dal mare Toscano, dove la Golar Tundra sarà posizionata dopo i primi tre anni nel porto di Piombino. Intanto, in queste ore, i comitati contrari al rigassificatore si sono incontrati con il prefetto di Livorno Paolo Dattilio per fare il punto sulle questioni relative alla sicurezza che l'arrivo della nave potrebbe comportare.